Ciao a tutti e benvenuti, è la domenica degli audio, è la domenica dei file, è la domenica delle interpretazioni, è la domenica degli splendidi e fedelissimi tifosi sordi del Milan che sul loro profilo Twitter hanno voluto fare la loro battuta. Allora, la mia prima analisi, il mio primo invito a tutti i tifosi del Milan è di non correre dietro agli audio, non a caso titolo il ginepraio degli audio. Vi ricordo che è un ginepraio senza fine, è un gorgo inutile perché ti mette addosso mille sospetti e ti riempie di falsità. Vi ricordo solo che dopo l'espulsione di Rebic in Milan-Napoli da parte dell'arbitro Pasqua sui social, sul web, si era fatta strada l'ipotesi che addirittura Rebic avesse mancato di rispetto alla mamma dell'arbitro Pasqua. Cosa falsa, cosa ignobile, cosa sbugiardata dalla riduzione della squalifica di Ante Rebic da due giornate a una giornata. Quindi, occhio agli audio che spuntano, stiamone fuori e statene fuori, se posso permettermi. Stessa cosa per le interpretazioni degli audio. Vi ricordo che dopo il caso Ibra-Lukaku, Ibra avrebbe dovuto essere squalificato dieci giornate, secondo le prime ricostruzioni, le prime interpretazioni, le prime ipotesi. Cosa che evidentemente non è accaduta. Naturalmente la notizia ha avuto vasta eco. C'è qualcuno di voi che ha collegato l'arbitro Maresca anche a quello che sto per dire. Ieri ho riso tantissimo nelle risposte su YouTube, però vi ricordo che la giornata, le sue spirali, i suoi effetti, le sue onde lunghe, viene analizzata da OneFootball. OneFootball è un grande portale, un portale ricchissimo di notizie a 360 gradi, un sito che sa essere sia nazionale che euro mondiale al tempo stesso come profilo, come standing. OneFootball ha un'app che potete scaricare dalla descrizione di questo video che non vi propone solo notizie, ma vi offre gratuitamente anche partite. L'app di OneFootball la potete scaricare gratuitamente dalla descrizione di questo video. Allora, tornando a noi, vedremo quello che deciderà il giudice sportivo nel corso della settimana, se deciderà per la squalifica di una giornata su Ibra o se deciderà per la squalifica di due giornate unendo al rosso diretto l'eventuale carico del referto dell'arbitro Maresca. E vedremo se, sia in un caso che nell'altro, il Milan poi deciderà di fare ricorso alla corte sportiva di appello, come è accaduto per Repic. Vedremo, questo lo scopriremo vivendo. Io mi sono fatto questa idea, che Ibra stesse borbottando, poi ci sono tifosi milanisti che dicono, borbottano tutti perché non può borbottare Ibra, e altri che invece dicono, no, Ibra è Ibra, la partita ormai era vinta, non bisognava andarsi a cercare rogne. E qui, libero dibattito, liberi opinioni. Io dico semplicemente che Ibra stava borbottando, adesso spunta l'audio, vai a casa, non vai a casa, è qualcosa che avevo sentito anch'io, che vi avevo riferito ieri, però è una frase quella che non era stata sanzionata dall'arbitro Maresca. Ibra poi aveva avuto un attimo di silenzio, fino al silenzio non c'è stato nessun provvedimento nei confronti di nessuno. Quando Ibra ha detto ancora, non ti sembra strano, è scattato il rosso. Quindi, delle due luna, o l'arbitro Maresca ha capito male, e ha pensato che dentro il ti sembra strano di Ibra ci fosse una parolaccia, quindi ha sentito male, torniamo alle battute che dicevo prima, oppure ha avuto uno scatto di nervi, oppure aveva deciso, in cor suo stava un po' rimuginando, stava un po' rimuginando, se apri ancora bocca ti mando fuori, senza pensare a quello che Ibra avesse detto o meno. Certamente Ibra non ha insultato l'arbitro, certamente non c'è nessun tipo di parolaccia, nessuna, anche noi in redazione a Minantivi avevamo un sospetto su un termine, ma sentito e risentito quel termine non c'è. Ma non quello che è circolato sui social, era un altro nostro sospetto interno, quindi è inutile assolutamente dirlo, perché poi non ha trovato nessun riscontro, non ha trovato nessun fondamento. Questo ha conferma del fatto che sugli audio poi ci sono le ipotesi più fantasmagoriche. Per cui o c'è una cattiva comprensione di quello che ha detto Ibra a livello audio, oppure uno scatto di nervi. Sia nell'uno che nell'altro caso non va bene. Molti tifosi del Milan mi segnalano che l'arbitro Maresca è quello che ha ammonito per simulazione a centrocampo Leao in Minantorino, che era una cosa difficilmente tollerabile già prima della parita di ieri a Parma, perché Leao, povero, ricordo ancora la sua espressione, ma cosa? Simulazione a centrocampo, faccio la simulazione per che cosa? Per raggiungere che cosa? Per raggiungere quale obiettivo? Maresca voleva semplicemente riequilibrare il fatto dei rigori del primo tempo, voleva semplicemente mettere la sua firma sulla partita. È un arbitro questo? Io ripeto, io non amo personalmente Orsato per il suo tono dittatoriale, però Orsato ieri, sapete come avrebbe risolto la cosa? O andando direttamente da Ibra smettila, affrontandolo direttamente, oppure dicendo alla panchina fatelo smettere. Invece Maresca ha fatto quello che Rimungin, ha fatto quello che... Se parli ancora... Gli tira fuori il rosso per un non ti sembra strano. Ora, ci sono naturalmente i tifosi del Milan che dicono Ibra poteva tranquillamente stare zitto, ma Ibra pensava di essere nell'ambito di quelle frasi, di quei borbottii di campo che fanno tutti, per i quali non si arriva al rosso. Però c'è anche il rosso. Non si può escludere l'arbitro Maresca da questa vicenda. L'arbitro Maresca che a Udine fa l'opinionista, si devono accettare i risultati del campo e poi a Parma fa quello che... Adesso ha il rosso. Così mi sembra francamente che non vada bene nell'una o nell'altra cosa. Direi però, al di là di questo, che a Parma abbiamo vinto bene. Abbiamo vinto 3-1 contro un Parma che nelle sette partite prima del Milan aveva segnato 13 gol. Aveva una media di due gol a partita. Ieri il Parma ha fatto il primo tiro in porta sul 2-0 e poi ha fatto il gol quando noi eravamo in dieci, eccetera, eccetera, e poi non abbiamo più rischiato nulla. Devo dire che ieri c'è stata un'ottima gestione della partita da parte del Milan. Io ho visto nella squadra lo spirito, ho visto il gruppo, ho visto i meccanismi, ho visto... Insomma, una squadra che ha fatto cinque cambi e tutti i cinque cambi sono entrati in campo per dare la mano che la squadra si aspettava. È arrivato un altro gol dalla panchina. Ha segnato Auga, è entrato alla panchina con la Samp, e ha segnato Leao a Parma, è entrato alla panchina. Su Assis di Dalò è entrato alla panchina. Questo ci dice una cosa, che chi va in panchina non molla, che quindi il tessuto nostro, della nostra squadra, è sano, è saldo. Cioè, tutto il gruppo è dentro la stagione, è dentro con la testa, è dentro con l'anima, è dentro con il cuore. Quindi, buona tattica, buoni meccanismi, buon gruppo, mi è sembrato di vedere anche buone gambe, e quindi, buona reattività. Insomma, abbiamo smaltito i diversi carichi di lavoro che ci sono quando si va nelle nazionali, poi si cambia metodo, si torna a Milanello, in 4-4-8 si gioca. Insomma, abbiamo sofferto un po' di queste cose con la Sampdoria, le abbiamo pagate regolarmente, però mi sembra che Parma-Milan non ci lasci soltanto il dibattito nazional popolare su Ibra, ci lasci anche una squadra, una squadra tutta coinvolta in tutti i componenti del gruppo della Rosa al punto giusto. Ieri, prima della partita, Paolo Maldini ha parlato, senza entrare nel merito e senza giudicare, di Gigio Donnarumma, e dopo la partita, ieri, Stefano Pioli, in maniera molto paternalistica, ha parlato di Gigio Donnarumma. Quindi, ha parlato Paolo Maldini, ha parlato Stefano Pioli, quindi il Milan ha parlato. Io credo che, sia da parte nostra, sia da parte mia che da parte vostra, adesso si debba attendere semplicemente, semplicemente un segnale, un intervento da parte di Gigio Donnarumma. Quindi, credo che dopo le parole di ampia apertura di Paolo Maldini, di carezza di Stefano Pioli, tocchi, questa volta inevitabile ragazzi, tocchi un po' a Gigio, dirci un po', farci capire un po' come sta le cose. Mia personalissima, personalissima sensazione davanti alla macchina del caffè con voi. Ciao a tutti, ci vediamo e ci risentiamo domani.